Ciao a tutti, benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo il trailer di oggi e subito dopo le notizie. È nuova? Sì, se ti va ti diamo una mano. Questo college è famoso per i suoi odori corporali. Qui predomina un'atmosfera di barbarie mascolina, ma noi cambieremo le cose. Sai qual è il vero problema della vita sociale contemporanea? La tendenza diffusa a cercare sempre qualcuno che sia più figo di te. Ciao. Le nostre aspirazioni sono più semplici. Trovi qualcuno che non ha ancora chiare le sue potenzialità. Uno come Frank? Sì, e lo aiuti a esprimerle e a crescere. Qui c'è abbastanza materiale per una vita intera di attività sociale. Ma vogliamo soltanto migliorare la vita delle persone. E un modo per farlo è cercare di impedire che loro se la tolgano. Non esiste caso in cui il nostro aiuto non torni utile. Vuoi assaggiare una ciambella? Pensi che ti farebbe fare una brutta figura ammazzandoli? Penso che se lo facesse farebbe fare a se stessa una brutta figura. A proposito di prevenzione di suicidi, hai per caso un ragazzo? Ve la manda quel ragazzo laggiù. È una mossa da playboy, da donnaiolo incallito. Uomini del genere andrebbero evitati. Qual è il modo più efficace per combattere la depressione? La birra? No, la birra deprime. I cocktail, i liquori forti, i super alcolici. Ecco cosa ti tira veramente su. Frank? Frank è stupido e lo sapevamo. Ma che fosse un lurido playboy da strapazza è una vera novità. Non mi piace il termine depresso. Preferisco dire stato di prostrazione. Immagino che vorrà anche le ciambelle adesso. Questo sguardo pieno d'amore non riesco a scordarlo, è presente, no? No, no, ma è chiaro quello che intendi dire. Trouble with the Curve è il nuovo film sullo sport di Robert Lawrence che vede nel cast Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake. Eastwood recita la parte di un talent scout veterano del baseball che cerca di recuperare una relazione con la figlia che è sempre stata molto difficile. Timberlake invece farà la parte di un ex lanciatore che sembra essere interessato alla figlia del talent scout. Uscirà nelle sale il 28 settembre. E per oggi è tutto, arrivederci alla prossima puntata.